Il treno Reggio Express, 2573, di Trenord, proveniente da Tirano, è diretto a Milano Centrale, delle ore 18.01, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Monza. Il treno Reggio Express, 2568, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Sunrio, delle ore 18.02, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varenna-Esino, Bellano-Tartavalle-Terme, Colico, Morbegno. Il treno Suburbano S7, 5158, di Trenord, delle ore 18.07, per Milano Porta Garibaldi, è in partenza dal binario 1 Tronco. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Suburbano S8, 10873, di Trenord, delle ore 18.07, per Milano Porta Garibaldi, è in partenza dal binario 2. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 5055, di Trenord, delle ore 18.12, per Bergamo, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni eccetto, l'Eco Maggianico. Il treno regionale, 52-92, di Trenord, delle ore 18.15, per Sonrio, è in partenza dal binario 5. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Castione a Nevenno. Il treno Suburbano S8, 10868, di Trenord, delle ore 18.23, proveniente da Milano Porta Garibaldi, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Suburbano S7, 51-49, di Trenord, delle ore 18.23, proveniente da Milano Porta Garibaldi, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 25-70, di Trenord, delle ore 18.36, proveniente da Milano Centrale, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Suburbano S8, 10-8-7-5, di Trenord, delle ore 18.37, per Milano Porta Garibaldi, è in partenza dal binario 3. Il treno regionale, 52-87, di Trenord, delle ore 18.45, proveniente da Colico, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 52-85, di Trenord, delle ore 18.45, proveniente da Sonrio, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 50-54, di Trenord, delle ore 18.48, proveniente da Bergamo, è in arrivo al binario 1 Tronco. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.